La giornata della memoria 2021 che si compie oggi, 27 gennaio, sta a testimoniarci che il male rappresentato da Auschwitz e dalla Shoah è pronto a risvegliarsi come un virus micidiale. Lo afferma Papa Francesco mettendo in guardia gli italiani dal pericolo più grande, l'indifferenza. La scuola è il luogo in cui si educano studentesse e studenti alla cittadinanza attiva e al rispetto di ogni persona dei suoi diritti, all'accoglienza e all'inclusione della diversità. A ricordare quello che è stato in questo ambito è giusto segnalare il progetto educativo promosso dal premio nazionale Paolo Borsellino, che con la sua piattaforma educativa streaming Officina Legalità porta avanti all'interno del mondo della scuola dei progetti ed eventi culturali che aiutano i giovani nell'elaborazione, nella riflessione, nella comprensione e nello studio di quanto avvenuto. Per questa giornata nell'Istituto Moretti di Roseto e nell'Istituto di Cecco di Pescara si alterneranno numerosi testimoni che incontreranno i giovani dal vivo e sulle varie piattaforme online. Tre giornate, abbiamo cominciato lunedì con il collegamento e le interviste a Lia Tagliacozzo e Massimiliano Smeriglio, rispettivamente scrittrice ed europarlamentare, entrambi in prima linea per i diritti umani. Abbiamo poi continuato ieri, da un punto di vista storico, in collegamento avevamo l'Avvocato Luigi Guerrieri che ha appunto parlato ai ragazzi delle leggi razziali e soprattutto di come la mente umana nei periodi di crisi reagisca in maniera veramente drammatica e sempre nell'ottica della conoscenza e della memoria che va onorata ma soprattutto i ragazzi vanno resi consapevoli in maniera critica di quello che è stato perché questo non abbia più ad accadere. Concludiamo oggi con Susanna Costaglione, un'attrice che ha già curato un importante rassegno al Museo Colonna di Pescara che oggi è in presenza in Aula Magna con due classi quinte, mentre altri cento ragazzi sono collegati da casa su piattaforma Meet. Abbiamo concluso con il linguaggio teatrale che è quello che tocca il sentimento dei ragazzi perché appunto sui sentimenti dei ragazzi che dobbiamo far leva per giungere ad un sentimento di solidarietà ed evitare che la crudeltà umana possa ripetere gli orrori di quello che è stato. Per tutto questo ringraziamo Officina Legalità e quindi Gabriella Sperandio e Graziano Fabrizi e il Deus Ex Machina, Leo Nodari, che ci ha consentito appunto questa rassegna dei tre giorni facendo sì che il premio Borsellino tutto l'anno duri effettivamente tutto l'anno.